E' polemica piazzola sulla vicenda dell'area verde che si trova dietro alla biblioteca e che il comune vorrebbe vendere e trasformare in area edificabile. I cittadini avevano anche creato una catena umana per difendere l'area con una manifestazione pubblica chiedendo che venga mantenuta la vocazione culturale e ambientale. Sulla risposta della sovraintendenza si è aperto il dibattito politico con scambi pesanti di accuse tra maggioranza e opposizione e la minaccia di ricorrere alle vie legali.